Due nuove commissioni consigliari definite speciali vanno ad aggiungersi alle sette canoniche ufficiali del Consiglio Comunale di Palermo. Il primo nuovo organismo si occuperà di controlli e regolamenti, il secondo approfondirà le questioni relative a igiene e sanità. Due commissioni extra per due settori ritenuti degni di meticolosa e particolare attenzione, nate anche dall'esigenza di riequilibrare qualche scompenso frutto di un malcontento tra gli schieramenti e la ripartizione delle cariche a sala delle lapidi. Una delle due presidenze, infatti, sarà sicuramente affidata a un consigliere del Partito Democratico facente parte dell'opposizione, mentre l'altra dovrebbe rimanere di pertinenza di Casa delle Libertà. Il pregio delle commissioni speciali sarà quello di non gravare sul bilancio comunale, in quanto i consiglieri chiamati a comporle non percepiranno nessun gettone aggiuntivo e approfondiranno argomenti estrapolati dalle commissioni ufficiali. Diverse le reazioni tra i consiglieri in carica a sala delle lapidi. Secondo il capogruppo di ANM, Mimmo Russo, trattasi di organismi di alcuna valenza concreta nati solo per conferire un contentino e la macchina di servizio a chi non ha raggiunto alcuna presidenza. Moderata soddisfazione da parte di Totocinto l'assessore all'igiene e alla sanità che si compiace della scelta del comune per un settore che, a suo dire, necessita di un organismo dedito e specializzato per la delicatezza dei temi e delle problematiche. L'esponente dell'Udc si augura che la creazione di una commissione speciale sia d'impulso per una riqualificazione del suo assessorato di pertinenza.